Piste ciclabili, raccolta differenziata, trasporto pubblico, pedonalizzazione in città, parchi e aree verdi. Circa 200 studenti e studentesse degli istituti Berti, Passoni, Sommelier, Maria Ausiliatrice di Torino e Pininfarina di Moncalieri hanno interrogato per due ore il sindaco Stefano Lorusso in un confronto strettamente collegato all'adesione di Torino e della città metropolitana al Climate City Contract, un vero e proprio contratto che coinvolge 99 città europee, 9 in Italia, con impegni precisi in campo ambientale da raggiungere entro il 2030. Domande e risposte puntuali nell'auditorium di città metropolitana che hanno consentito al sindaco di raccontare agli studenti tanti aspetti della città e del territorio, spiegando le motivazioni di alcune decisioni, illustrando costi, anticipando progetti allo studio. Il contributo che hanno dato i ragazzi delle scuole all'attività del Climate City Contract è un contributo determinante, proprio attraverso questa discussione pubblica, aperta, franca e sincera, che si gioca il futuro dell'efficacia della strategia e delle misure che stiamo mettendo in campo per rendere effettiva la strategia di mitigazione dell'impatto antropico sul cambiamento climatico a livello cittadino e a livello di area metropolitana. Un grazie davvero a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato, e i loro insegnanti che hanno voluto condividere con noi questo meraviglioso percorso. Molto discusso il tema del verde pubblico e dei rifiuti e tante le domande sul trasporto pubblico e privato. Con lo russo hanno risposto alle domande anche il vice sindaco di città metropolitana Jacopo Suppo e l'assessora all'ambiente e al trasporto del comune di Torino Chiara Foglietta.